Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Le anticipazioni di uomini e donne rivelano che la dama è più attiva che mai e ha messo gli occhi su un affascinante cavaliere. Durante l'estate, i fotografi del settimanale nuovo hanno immortalato Gemma in compagnia di un uomo molto più giovane di lei, passeggiando sul lungomare della Romagna. Molti hanno subito commentato la presenza di un toyboy, sollevando un polverone intorno alla dama più amata e discussa di uomini e donne. Ora Gemma torna alla carica. Le anticipazioni di Blasting News spiegano che, dopo una sola settimana, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con Valerio e di avviarne una nuova con Raffaele, cavaliere appena rifiutato da Barbara De Santi. Tra la 73enne e Raffaele c'è già stata una frequentazione nel 2017, ma fu Gemma a chiudere la storia per mancanza di interesse. Ora, il futuro è incerto e tutti attendono di vedere cosa accadrà. Blasting News offre altre anticipazioni, rivelando che l'unico scontro verbale finora è stato tra Armando e Mario nella prima puntata. Armando ha criticato Mario per il suo comportamento con Ida in passato. Gemma Galgani sembra determinata come sempre a trovare l'amore, nonostante le critiche e i pettegolezzi che la circondano costantemente. Rimane una figura centrale nel programma di Uomini e Donne. Il pubblico è curioso di vedere come evolverà la situazione tra Gemma e Raffaele, e se questa volta riuscirà a trovare la stabilità sentimentale che cerca da tempo. Continueremo a seguire le vicende di Gemma Galgani, sempre sotto i riflettori e pronta a sorprendere con nuovi colpi di scena nella sua vita sentimentale.